E' arrivata l'ora che i cittadini capissero che è cambiata completamente la struttura comune, è cambiato il sistema di mantenere il comune e quindi serve una managerialità che prima forse non se ne sentiva neanche l'esigenza. Ed era facile il concorso a diventare sindaco, chiunque poteva ambire. Ora la dimostrazione del fallimento bombante fa capire che effettivamente non ci si può improvvisare. E quindi questo è il momento adatto, non solo per vincere ma anche per offrire le proprie competenze alla città. E mi sono candidato quindi per questo motivo, perché Palma sta vivendo una situazione di crisi che va inserita nel contesto nazionale. E' stata ancora più aggravata da questo malgoverno nei tre anni, che purtroppo ha richiesto anche questo motivo che mi rimettessi in gioco, stanno cercando di dare continuità di anche la sostituzione dell'ex assessore di Bombante, la Lina Vizzini che si candida a sindaco e il Bombante che si candida a consigliere per sostenere la Vizzini. Quindi per fermare questa onda purtroppo disastrosa per il nostro territorio bisogna spendersi per la città. Si è verificato a Roma quello che invece da due mesi e mezzo o tre mesi già noi costruivamo a Palma di Monteghiaro, con la consapevolezza che sono le tre forze che tre anni fa si erano opposte alla candidatura di Bombante. Queste cose non vanno dimenticate. E queste tre forze hanno fatto l'opposizione a Bombante, al suo sistema. E dopo un primo contatto, dopo che abbiamo verificato che era necessario portare avanti una politica di rigidità morale in assoluto, quindi con una delle regole è stata non accettare un certo tipo di candidature che potessero segnare la continuità col governo di Bombanti, anche per le vicende che ci sono state, perché Palma di Monteghiaro non bisogna dimenticarlo. Ci sono un sacco di atti sequestrati e se Palma vuole liberarsi e vuole avere un po' di serenità si deve liberare di questo clima e tu non ti puoi liberare da questo clima portando con dei candidati che magari possono essere raggiunti da viso di garanzia o che già ce l'hanno. Allora, fatto questo patto, poi abbiamo fatto ulteriori patti che sono quelli di rendere governabile il Paese, perché qui ora spiego l'altra motivazione. In pratica le risorse sono scarse economicamente, non sopraggiungono più finanziamenti o rimessi da parte dello Stato come una volta, e quindi bisogna fare leva ormai sulle risorse immateriale. Quali sono? Sono le risorse umane, i dipendenti comunali. E per fare una molla nuova bisogna avviare un nuovo procedimento di capacità di produzione e servizi da dare alla città, in offerta alla città e questo lo si può fare mettendo ordine nella macchina amministrativa, facendo lavorare e produrre dipendenti comunali e questa è stata un'altra delle motivazioni che ha richiesto l'impegno mio di nuovo alla candidatura, perché credo di essere forse l'unico candidato a poter offrire quell'esperienza di conoscenza della macchina amministrativa e di capacità di gestione del personale. Fondamentale rendere la macchina amministrativa efficiente vuol dire concessione in tempi certi, vuol dire servizi in tempi certi, vuol dire servizi a vantaggio di supporto del cittadino, il metano, non deve essere più una guerra fra il colosso, l'impresa e il povero disgraziato del nostro cittadino, saremo noi a gestircela questa con le imprese, ma il nostro vero programma diventa l'esigenza di ridare un sorriso ai bambini di Palma di Montechiaro, con le rabbombanti sono scomparsi il carnevale, sono scomparsi le luminarie a Natale, stavano scomparendo pure biglietti per il trasporto e il diritto allo studio e nello stesso tempo le tassazioni sono cresciute. E allora come operare? Noi procederemo per innanzitutto cercare di abbattere dentro i primi 15 giorni, perché è bene che si sappia, a Palma veniva richiesto allo Stato una tassazione che portasse alle casse comunali 1 milione e 900 mila Euro, con l'operazione Bombanti del 10,4 per 1.000 sono già entrati 3 milioni e 200 mila Euro, cioè significa che sono state sottratte dalle tasche dei palmesi 1 milione e 300 mila Euro in più, tolti dalla possibilità di dare 10 Euro al figlio per potersi divertire o vivere più cristianamente. Bene, il nostro primo lavoro sarà quello di ridurre la tassazione che va dal Limo ma si sposta ai rifiuti e lì credo di essere stato un combattente sul territorio non solo locale ma siciliano contro il sistema di gestione dei rifiuti e di speculazioni e cercheremo di imporre nuove regole per far sì che si abbia una riduzione dei costi dei rifiuti a Palma. L'acqua e dopodiché lavorare per lo sviluppo, lavorare per lo sviluppo di nuovo piano regolatore, efficacia nel piano regolatore, attrezzatura delle coste e risanamento del territorio. Se l'elettore Palmese spera di avere una concessione di rizzi in tempi certi, faccia una disamina, guardi i candidati a sindaco, chi glielo potrebbe garantire? Se un elettore Palmese vuole la riduzione sulla tassa dei rifiuti, faccia una disamina, chi gli può andare a creare le condizioni per ridurre il costo dei rifiuti a Palma di Montechiaro, sia per quanto riguarda la possibilità di applicare la raccolta differenziata, sia a menore trasporti, sia alla battaglia per portare i rifiuti in discariche più vicine e non quelle che servono ai privati che speculano sui rifiuti, mi riferisco alla discarica di Siculiano. Chi potrebbe garantire ai cittadini poter avere dei dipendenti che si mostrino disponibili e di collaborazione con la città? Faccia una disamina, chi ha le carte regole per potersi proporre al sindaco venga votato. Io credo che noi le carte regole ce le abbiamo e faccio pesare ancora di più la mia scelta. Io nella scelta degli assessori ho desiderato che venissero indicati quelli che per le loro stesse formazioni politiche erano indicati come potenziali sindaci, non ho cercato belle statuine, non ho cercato blef per ingannare e ricercare il voto, potremmo non essere simpatici ma potremmo essere sicuramente, lo siamo, dei buoni amministratori per il Paese.